L'Assemblea dei Soci di Estra ha approvato la quotazione in borsa, ecco un percorso che quando giungerà a termine su quali principi si basa? Estra ha necessità di aprirsi al capitale privato, a degli investitori istituzionali che non snatureranno l'origine pubblica né la maggioranza pubblica. Sarà in sal di mani pubbliche questo patrimonio economico cittadino. Estra però dovrà affrontare le sfide del mercato dell'energia che è in continua evoluzione e per fare questo servono grandi risorse pur essendo sana e con grandi disponibilità. Quelle risorse che ci consentiranno di rimanere tra i primi nella classifica nazionale delle utilities di origine pubblica. Quando si concluderà questo percorso? Oggi abbiamo dato di fatto l'avvio del procedimento, puntiamo a quotarci a novembre, se non ce la facciamo l'altra finestra temporale è maggio. E lì sarà appunto l'avvio di questa nuova motore. Badate bene che queste risorse che otterremo dalla quotazione saranno anche destinate a immaginare un nuovo modello d'azienda pubblica capace di giocare un ruolo forte anche in Toscana, non solo nel gas ma anche in altri settori pubblici.